Due giornate di condivisione e networking volte a costruire un percorso partecipativo che vede coinvolti tutti gli attori del settore turistico pugliese, protagonisti di un processo che punta sempre più in alto. Si chiama Puglia Destination Go Organizziamo il Turismo. Si tratta di una due giorni volta a interrogarsi su un nuovo modello di sviluppo territoriale. Oggi parte un nuovo progetto per il turismo pugliese, cominciamo a fare rete, lo facciamo con le associazioni del partenariato, con i dipartimenti di Regione Puglia, con altri soggetti che vogliamo coinvolgere in un progetto che è finalizzato a introdurre il concetto di DMO in Puglia. L'organizzazione sarà la sfida del nuovo corso pugliese e lo facciamo intanto capendo quali sono le migliori pratiche in giro per l'Italia e per l'Europa e cercando di costruire dal confronto che verrà fuori oggi ma anche nei giorni seguenti e soprattutto negli incontri territoriali che saranno avviati a novembre quale può essere un modello o più modelli giusti per la nostra regione. Tutto questo per continuare a migliorare l'attrattività pugliese e per fare della Puglia una destinazione ancora attrattiva. Le attività prevedono workshop, analisi e incontri rivolti agli stakeholder di settore, in particolare alle associazioni di categoria e ai dipendenti pubblici regionali per definire ruoli, competenze e strumenti a supporto delle destinazioni pugliesi. L'obiettivo di Puglia Destination Go è lo sviluppo di una nuova governance turistica attraverso la creazione di prime realtà di Destination Management Organization.